Novità per le imprese dal primo di luglio del 2021 è entrata in vigore una nuova norma che prevede per il rinnovo degli affidamenti cosiddetti a revoca per le imprese la presentazione del business plan. Quindi il business plan diventa necessario per rinnovare i fidi di conto corrente, anticipo fatture e quant'altro per il rinnovo di questi stessi affidamenti. Quindi tutte le piccole e medie imprese dovranno nel dossier che presentano alla banca che devono allegare necessariamente il business plan. Quindi noi come consulenti ed educatori finanziari siamo a disposizione delle imprese per la redazione di questo nuovo strumento che serve per dialogare con le banche e mantenere il dialogo e gli affidamenti in corso. Noi ci siamo, i riferimenti sono info-york-solution.it o numero di telefono 0372-2405. Il business plan per il rinnovo degli affidamenti.